Buonasera Lando! Ciao Dino! Ti fai un caffè? No, mi fai un crudino! Oh, pensa che figura che ha fatto figlio in una scuola ladruci o no? La maestra gli ha fatto, adesso voglio vedere se ti ricordi la matematica che abbiamo studiato. Ti faccio una domanda. Sul ramoscello ci sono dieci uccellini, un cacciatore sparano e ammazza tre. Quanti ne rimangono? Sto figlio gli fa, manco uno ma è? Come manco uno? Manco uno perché l'altro vola via. Oddio, il ragionamento che hai fatto è giusto, però la risposta esatta in matematica è sette perché dieci meno tre fa sette. Però gli ha fatto sta maestra, bravo, mi piace come ragioni. A che figlio gli ha detto ma è te ne posso fare una io di domanda? Fa prego. Allora su una banchina c'è tre donne, magna tutte e tre uccellati, una rulicca, un'altra rumoccica e un'altra rosucchia. Qual è la scusata ma è? La maestra gli ha detto ma dai senza ombra di dubbio potrei dire tranquillamente quella che lo succhia. Sto figlio gli ha detto no ma è quella che porta la fede però mi piace come ragioni.